Le fiamme sono divampate alle prime luci dell'alba dalla manzarda di questa palazzina a Vaiano, in località Latignamica. E all'ultimo piano, abusivamente adibito al laboratorio tessile e dormitorio, sono stati trovati senza vita, morti per asfissia, due cittadini cinesi, un uomo e una donna di 35 anni. Il presidente della regione toscana Enrico Rossi è arrivato sul luogo della tragedia anche perché il dramma di Vaiano riporta con la mente a quello del 2013, quando in un laboratorio del Macrolotto Zero di Prato morirono bruciati sette operai. Da allora la regione ha avviato controlli rigorosi in tutte le aziende. Noi abbiamo ottenuto grandi risultati, abbiamo chiuso 700 dormitori nelle aziende della Piana con i nostri controlli insieme alla Procura della Repubblica. Notiamo che c'è questo spostamento dalle aziende anche nelle civili abitazioni. Per colpire questo fenomeno è necessaria la collaborazione dei cittadini, a cominciare dagli affittuari. Il presidente Rossi rivolge quindi un appello. Invito tutti gli affittuari che hanno questi sospetti a fare denuncia, ma anche i cittadini che hanno dei sospetti nell'abitazione vicina o altro, a fare denuncia alla Procura della Repubblica, ai vigili urbani, alle asle. Noi interverremo e li smantelliamo. Con il progetto della regione Lavoro Sicuro, nato per contrastare l'illegalità nei luoghi di lavoro, in due anni e mezzo le imprese di laboratori verificati sono stati 7.946, di cui 4.307 soltanto nella città di Prato. Oggi, dopo i controlli, un'azienda su due risulta in regola. E poi aggiungo che chi ha organizzato questo laboratorio è un criminale, perché non può non sapere, dopo tutto il lavoro che noi abbiamo fatto, anche se viene da lontano, che in queste condizioni si rischia la vita.